Ciao a tutti, questo è uno speed della live dedicata ad un'animazione che ho fatto tempo fa. Siccome ho avuto problemi con il copyright, ho dovuto cancellare il video. Ma prima ho creato questo e siccome mi dispiaceva perderlo definitivamente, ve lo ripropongo. Quindi vi auguro buona visione e fatemi sapere se volete delle altre live. A presto, ciao! A presto, ciao! A presto, ciao! A presto, ciao! A presto, ciao!